Cari amici, vi invito alle case del sole. Le case del sole si trovano nell'isola di Fogo, nella Repubblica dell'Arcipelago di Capoverde. Venite a un'esperienza, non dico unico, ma un'esperienza di pace, un'esperienza di contatto con un mondo culturale diverso, quindi anche di ascolto di una realtà che ha fatto il suo percorso di schiavitù e oggi di indipendenza e di libertà. E certamente questo incontro con la popolazione e anche con l'ambiente è motivo di pace, è motivo di crescita anche nostro interiore, di dialogo non solo con la nostra Europa, ma anche con un mondo africano che si apra a noi e si aprirà sempre più alla nostra vita, al nostro impegno e al nostro dialogo. Grazie, vi aspetto, ma vi aspetto veramente. Grazie a tutti.